Ci voleva, abbiamo recuperato la settimana scorsa una partita di campionato con Ligona che è andata male pur giocando bene, oggi non c'è che dire, abbiamo ritrovato la squadra che tutti conosciamo nella Genova Calcio. Gioco e risultato? Gioco e risultato, ma davanti a tutto noi mettiamo sempre la prestazione, quest'anno abbiamo sbagliato veramente poche partite. Subito dopo il fischio finale, nello spogliatoio, com'era l'ambiente? Bello, immaginiamo. Bellissimo, i ragazzi erano galvanizzati, è sempre bello vincere contro, anche se sotto leva contro squadre professionisti come Genova, Sampdoria, Intella, Spezia. Questo è un gruppo che si sta togliendo dei bei sassolini dalle scarpe. Mi ha fatto un buon primo tempo, poi ci siamo complicati la vita da soli, nel senso che tutte le azioni dei tre gol sono venute da errori individuali nostri e poi è diventato tutto più difficile. Però peccato, perché secondo me, alla luce del gioco espresso nel primo tempo, poteva finire diversamente. Bastava semplicemente, sull'azione dei tre gol subiti, rimettere palla in campo nella maniera giusta come avevano fatto il primo tempo. Sicuramente la fisicità degli avversari è venuta fuori nel corso del secondo e del terzo tempo, però, ripeto, nel primo tempo erano gli stessi avversari, quindi bastava mantenere la stessa concentrazione, la stessa applicazione. Io sono molto contento anche per i miei compagni, ho fatto un'ottima prestazione, anche se non ho aiutato tanto la squadra, però sono molto contento. Che gruppo è il vostro? Me lo racconti un po'. Siamo un gruppo molto unito, sappiamo lavorare bene insieme, ci divertiamo. Dopo la partita cosa vi ha detto al mister? No, niente, ho detto che all'inizio ci ha svegliato un po', alla fine ci ha ringraziato perché siamo stati bravi. Come ti trovi alla Genova Calcio? Mi trovo benissimo, sono dall'inizio, ho giocato sempre qua, ho rifiutato le altre squadre, ma rimango qua. Un bel ambiente? Sì, sì. Quindi l'obiettivo è arrivare in prima squadra? Speriamo. Molto contento, siamo un gruppo unito, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Dal punto di vista individuale, buona prova alla tua, sei contento? Buona, buona. Anche se la caviglia fa un po' male, però buona. Pronti adesso per continuare questo campionato? Sì, sì, adesso cerchiamo il primo posto. Chiesto prima il tuo compagno e lo chiedo anche a te, come ti trovi in questa società? Benissimo, dall'inizio alla fine, benissimo. Gruppo che compagni si sta bene? Gruppo, siamo molto uniti e spero di continuare così. Sì, è una bella soddisfazione, oggi ci abbiamo messo grinta, poi tutto è venuto fuori come era. In tutti i tre tempi avete giocato bene? Sì, sì, ci abbiamo sempre messo più forza possibile e adesso siamo soddisfatti. A fine partita, com'era il clima nello spogliatoio? Il clima nello spogliatoio? Magari siamo andati un po' troppo sopra le righe, però va bene, dai. Sono arrivato l'anno scorso, è bellissimo il gruppo, come hanno detto anche gli altri, è unito, mi trovo bene. Vuoi restare qui a lungo? Certo.